Sono in arrivo 95 milioni di euro del MIUR per l'ammodernamento, la ristrutturazione e la riedificazione delle scuole superiori toscane, di competenza delle province e della città metropolitana. Ad annunciarlo è stata l'assessore regionale all'istruzione Cristina Grieco. La Toscana, coordinatrice a livello nazionale, a suo tempo chiese di destinare alle province una riserva del 30% delle risorse complessive per l'edilizia scolastica. E sempre in Toscana questa riserva è stata innalzata al 40% andando a ripartire fra province e comuni il restante 60%. Le province avranno accesso a oltre il 50% dei finanziamenti e questo è importante perché la situazione in cui versano gli edifici delle scuole superiori è una situazione assolutamente drammatica. I 95 milioni di euro in arrivo serviranno infatti a finanziare gli interventi già programmati per il 2018 in 15 istituti superiori. Per il futuro, ed è questo stato lo scopo della riunione di oggi, vorremmo metterci a disposizione per indicare alle province tutti quelli che possono essere gli strumenti anche per la programmazione e per la progettazione degli interventi. Nei primi mesi del 2020 arriveranno i fondi per il 2019, 820 milioni di euro non ancora ripartiti fra le regioni. Grazie. 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 Grazie.